Cosa ne pensano i cittadini del fatto che in quest'area parcheggio dove prima si poteva sostare la propria auto gratuitamente, adesso invece ci sono anche stalli a pagamento? Noi cittadini abbiamo bisogno di più spazi di strisce bianche, perché non è possibile invadere tutto il territorio con le strisce blu, assolutamente. Quindi ben vengono gli spazi delle strisce bianche. In questa città ci sono aree parcheggio gratuite per i cittadini? Oddio, il parcheggio alla salle è tutto libero grazie a Dio e ripeto, se fosse possibile aumentare un po' gli spazi con le strisce bianche sarebbe una cosa molto utile per tutta la cittadinanza. Tra pochi mesi ci saranno le elezioni, cosa si sente di chiedere al futuro sindaco? Purtroppo sempre le stesse cose, più sicurezza innanzitutto, più sicurezza, più controllo del territorio e questa è una cosa molto importante perché si parla di carenza di organico. Però penso che questa cosa della carenza di organico possa andare un attimino in secondo piano perché grazie a Dio vedo, diciamo, che l'organico, e mi riferisco alla polizia municipale in particolare, che penso che sia aumentato. Poi in generale più controllo del territorio, più sicurezza e poi il problema cronico proprio dei rifiuti. Però mi sento di dire da cittadino che ritengo di rispettare le regole, che è pur vero che la città è sporca, però ci sta una corresponsabilità sia da parte di noi cittadini e, ahimè, dell'amministrazione comunale. Ma se ne pensa del fatto che ci siano adesso anche strisce blu? Prima era solo un parcheggio libero, gratuito. No, no, è migliore come cosa perché si trova sempre parcheggio. Non dovrebbe essere così. Erano, diciamo, tutti che non pagavano e adesso hanno inserito queste strisce blu per pagare, quindi non è giusto. Spesso i cittadini si lamentano anche di multe e contravvenzioni per soste di brevi minuti e poi non si ritrovano a aree di parcheggio dove poter lasciare la macchina gratuitamente. Vero, vero, vero. Pure giù la Litorania hanno fatto la stessa cosa. In questa città mancano i parcheggi. Sì, sì. È tutto a pagamento. Per trovare una striscia bianca devi fare domanda a comune. La vita è già diventata cara, quindi se si potesse evitare alcune cose sarebbe meglio, per noi e per tutti. Io abitavo qui nei pressi di questo parcheggio e devo dire che però c'è sempre stato uno stato di abbandono. Adesso con le strisce blu le cose non sono migliorate perché nonostante si paghi è sempre una discarica. Chiunque viene a portare rifiuti anche lì e lasciano un sacco di sporcizia. Visto che parcheggi gratuiti in città scarseggiano, è giusto tartassare ulteriormente i cittadini? Ma io credo che parzialmente la cosa sia positiva se i fondi però riescono a coprire un poco i danni che i cittadini procurano. Perché effettivamente a volte ci sono dei camion che lasciano la loro sporcizia, i loro rifiuti. Quindi in qualche modo bisogna sopperire a questi danni, secondo me. È favorevole agli stalli a pagamento? Sì, sì. Perché qui mi serve a mezz'ora, vengo a pagamento, trovo il posto e me ne vado. Invece l'altro mette le mani in qua, ogni due mette il biglietto un'altra volta e saranno aggiornati interi qua. Chi abita qua mette sempre un biglietto. Ma in questa città ci sono aree di parcheggio gratuite per i cittadini? Sono sufficienti? Sta giù alla sala, sta solo giù alla sala e basta. E sono sufficienti secondo lei? No, no, non sono sufficienti. Questo è un abuso che si paga qua. Però non si può andare a pagare a nessuno. Perché l'hanno fatto apposta prima per il parcheggio. Poi hanno visto l'utilità e hanno messo a pagamento. Tra pochi mesi ci saranno le elezioni qua a Torre del Greco. Lei da cittadino cosa vuole chiedere al futuro sindaco? Prima cosa più pulizia. Molto pulizia. Io sono una figlia e abito anche. La mattina sono le ragazze che puliscono le strade. Pulite, è un tappeto pulito. Invece il camonnezza è autoparte. Le strisce blu servono anche per trovare più posto facilmente. Però questa è una città invasa da strisce blu. Eh vabbè, ma chi ci viene per lavoro vuole trovare anche posto. Cosa ne pensate del fatto che adesso ci sono anche strisce blu? È una pessima cosa purtroppo. Una città invasa da strisce blu. È una città a strisce blu. Comunque è così, se sei fortunato e trovi una striscia bianca libera, parcheggi lì. Se no paghi. Allora io da stamattina ho fatto quattro servizi, quattro punti diversi, ho speso tre euro e cinquanta di parcheggio. Se avesse lasciato la macchina per cinque minuti in custodita avrebbe preso una multa? Mi è successo anche questo, l'ho pagata stamattina. Quindi un salasso per i cittadini ma poca tolleranza. Assolutamente, zero tolleranza su tutto. Siamo a pochi mesi dalle elezioni, un appello da cittadina al futuro sindaco? Uno ce ne vorrebbe più di qualcuno, Toro del Greco è a pezzi. Non solo per le strisce blu, per tante cose, manca tutto. Ci sono i servizi, non c'è niente. Eppure è una bella città che abbraccia Napoli, la costiera, le isole. Tutto da ricostruire? Tutto.